Sono sincero, non lo so, perché deve essere qualcosa di interessante e anche di produttivo da riportare dentro il campo, perché conoscere a piedi il regolamento sicuramente porta dei miglioramenti anche al proprio modo di giocare, però da qua a diventare arbitro non lo so per il semplice fatto che non so se sarei in grado di gestire tutta quella pressione, perché comunque è molto pesante come ruolo da ricoprire. Grazie a tutti.